Arriva la sua quinta edizione, sabato 6 ottobre dalle ore 10, Balconica, a Futani, il primo festival italiano che porta musica, cultura, letteratura e teatro sui balconi delle case. Come ogni anno, anche questa edizione di Balconica chiama a raccolta performer da tutta Italia. Scrittori, artisti, attori e musicisti si alterneranno sui balconi del piccolo centro urbano in provincia di Salerno, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, pronti a esibirsi nella particolarissima location. Futani diventa così un palco unico, o per meglio dire più palchi da scoprire, seguendo il percorso dato dalla architettura del paese, dall'ingresso fino alla piazza principale, in un alternarsi di musica, letteratura e teatro, passeggiando, soffermandosi e scoprendo. A darsi il cambio sui vari balconi dalle 17 in poi, i live di tanti musicisti, mentre lo scrittore Andrea Doro presenterà il libro Oggetti abbastanza smarriti, in una performance fatta di parole, immagini e sonorizzazioni musicali. Inoltre saranno tre gli spettacoli teatrali. Durante lo svolgimento del festival si potranno visitare un mercatino con stand di associazioni, organizzazioni e artigiani del territorio, oltre agli immancabili stand mangia e bevi con prodotti locali.